E di sette patenti ritirate il bilancio dei controlli della polizia stradale avvenuti nella notte nei pressi di una discoteca a Piacenza mirati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Una serie di verifiche alle quali hanno preso parte anche la Croce Rossa, il medico della Polizia di Stato e il personale sanitario della scuola allievi agenti di polizia di Piacenza che ha riguardato 75 persone di cui 39 donne e 36 uomini. A seguito dei controlli, sette persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. Si tratta di tre uomini e quattro donne. Complessivamente sono state ritirate sette patenti di guida. Sei i conducenti che sono invece stati sottoposti al test di screening preliminare per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Tre di questi, tutti piacentini di circa 30 anni, sono risultati positivi al test. Due donne neopatentate sono state inoltre sanzionate per assunzione di bevande alcoliche, nonostante la legge per loro preveda un tasso alcolemico pari a 0 grammi per litro di sangue. I controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni. Nell'ultimo mese il personale della polizia stradale ha contestato altre 14 violazioni per guida in stato di ebrezza e una per alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.